amici youtube ben ritrovati sul canale riparo fate oggi andremo a vedere se i nostri dati sensibili del nostro account gmail sono stati rubati e inseriti nel dark web andiamo su one punto google punto com e nella sezione che vedete qui a video basta scorrere sul sulla voce monitor il dark web in cerca delle tue informazioni personali si clicca su prova analisi e google effettuerà una verifica del nostro account per per constatare se ci sono se i dati sono stati rubati quindi password e email e sono stati inseriti nel dark web schiacciamo prova un'analisi esegui scansione in questo momento google sta scansionando il dark web per verificare se ci sono corrispondenze come potete notare in questo caso qui non mi da non da nessun risultato trovato quindi le nostre password non sono state rubate il suggerimento che posso darvi è periodicamente di cambiare la vostra password del vostro account per non incombere in in questi in questi piccoli trucchi creati poi dagli hacker che vanno a rubare le password come sempre se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao